Va bene, quindi direi che possiamo riprendere i lavori, sperando che le persone collegate si vedano Giuliano Milani e quindi lascerei appunto adesso la parola a Giuliano Milani che è già stato evocato per i suoi studi appunto sulle liste, lui che probabilmente per primo ha coniato questo concetto storiografico di governare con le liste, ovviamente riferimento ad un lavoro importante sul bando a Bologna di qualche anno fa, ma poi Giuliano Milani ha lavorato anche, ho presente un bel libro, La Borsa al Collo, quindi sulla pittura di infamia, ma ha lavorato molto sulle fonti, siamo nell'anno dantesco, sulla biografia di Dante, quindi ecco, lascerei quindi la parola a Giuliano Milani, Université Gustave Eiffel, il titolo De libere statuti liste, il caso di Bologna. Prego. Grazie, Ermanno, mi sentite? Io sento benissimo. Allora, grazie Ermanno, grazie agli altri organizzatori, in particolare a Gerardo Ortalli per questo invito che mi permette tra l'altro anche di ritornare a dei temi di ricerca diversi da quelli dell'anno dantesco. Mi scuso molto con gli organizzatori e con i presenti per non essere potuto, per non aver potuto partecipare alla sessione di ieri e infine volevo ringraziare gli amici che sono intervenuti stamattina per le loro relazioni. Cominciamo dunque da questo approfondimento di un caso, quello bolognese, un caso che è piuttosto noto negli studi sulle delibere e sui consigli. Bologna è molto presente in due libri che sono stati già evocati stamattina e che trattano di questo tema, quello di Sbarbaro del 2005, le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani e anche quello di Lorenzo Tanzini del 2014 a consiglio. Se guardate gli indici dei luoghi di questi due libri, Bologna è molto presente. Questa presenza deriva da una situazione di privilegio dal punto di vista delle fonti, le serie delle delibere sono molto nutrite, ma ci sono ancora tante cose da chiarire. Un po' per quanto riguarda un periodo che poi è quello più vicino alle serie che celebrate, quello trecentesco che tutto sommato è meno studiato del periodo duecentesco e un po' anche per la lunga durata di una serie di problemi dati da un ordinamento archivistico a volte ingannevole. Piuttosto che raccontare le delibere di Bologna nel Trecento, ho deciso proprio anche per i limiti di questo tempo di ripartire, per così dire, dall'inizio e di fare alcune considerazioni sulla prima fase, sulle fonti più antiche, quelle tardo-duocentesche del comune e del popolo di Bologna, in particolare sulle loro modalità di riunione dei consigli in cui queste delibere erano prese, le modalità di redazione e le modalità soprattutto di archiviazione. infatti questo è un tema che mi sembra molto interessante e che già è stato in parte toccato nell'ultima parte della relazione di Attilio Bartoli e che può essere approcciato alla luce di una terza fonte oltre a quelle che di solito si utilizzano per parlare di delibere, ovvero e che è il terzo termine del titolo del mio intervento. Delibere, ovviamente, statuti che ci danno spesso molte informazioni, oggi a Bologna questo caso lo confermerà sui modi in cui le delibere erano prese e scritte. Infine liste, ma in questo caso delle liste particolari vale a dire un tipo particolare di documento in forma di lista per cui Bologna è molto celebre, che sono le liste di registri, ovvero sia gli antichi inventari dell'archivio, che possono permettere di rispondere a delle domande che le serie delle deliberazioni, i registri esistenti e la normativa degli statuti lasciano ancora aperte. Cominciamo dunque dall'assetto delle fonti così com'è conservato nell'archivio di Stato di Bologna. I registri di Bologna fanno parte di una serie, quella che è chiamata tecnicamente riformagioni e provvigioni del Comune di Bologna che fa parte a sua volta di un fondo chiamato Comune-Governo. Secondo la menzione ufficiale, quella che ritrovate negli inventari a stampa e online, questo fondo Comune-Governo raccoglie gli atti delle magistrature che nei vari periodi si posero quali organi direttivi del Comune bolognese, i documenti di carattere legislativo e quelli relativi ai diritti della città. Documenti che furono però raccolti, precisa questa menzione, in modo arbitrario e con criteri spesso artificiosi tra la fine del secolo XIX e l'inizio del XX, in un apposito punto recante il titolo di governo. Insomma, nell'archivio di Stato di Bologna, per tanti versi esemplare dal punto di vista dell'ordinamento, il fondo Comune-Governo rappresenta un po' un'eccezione perché alla fine dell'Ottocento tutta la documentazione che parve essere di governo venne suddivisa in sezioni, categorie, gruppi, talvolta accorpando anche materialmente i registri. Al punto che la consistenza nominale di questo fondo, 46 volumi, 96 registri, 298 buste, è in realtà poco significativa perché molti registri sono frutto di accorpamenti quasi mai giustificati. Proprio la serie delle riformagioni e provvigioni, quella che ci interessa oggi, in particolare una sottoserie che si chiama riformagioni del Consiglio del Popolo e della Massa, su cui torneremo, fino a una ventina d'anni fa si articolava in 15 volumi, poi dopo un intervento di risistemazione e di restauro oggi si articola in 83 registri originali che prima erano stati cusciti. Quindi immaginatevi, questo è stato fatto soltanto su una serie, immaginatevi quante sorprese potrebbe dare lo studio e la risistemazione anche materiale e dunque il restauro di altri volumi. Attualmente questa serie di riformagioni e provvigioni del Comune di Bologna è divisa in quattro serie che mescolano, e questo è un altro elemento che confonde oltre agli accorpamenti ottocenteschi, criteri diversi, sia criteri di provenienza, ovvero sia i vari consigli, sia criteri di tipologia, non soltanto di tipologia di scrittura e dunque anticipo quanto dirò in seguito, appunti, prime sistemazioni, redazioni definitive, secondo quelle prassi che in apertura del suo intervento Lorenzo Tanzini evocava, e addirittura di materia. Infatti, se adesso condivido un momento lo schermo per darvi un po' una idea, lo vedete? Sì, sì. Ecco, le quattro serie su cui si articola questo fondo, riformagioni e provvigioni, mescono, dicevo, questi vari criteri, perché ancora una volta si tratta appunto di una divisione moderna, frutto di molte risistemazioni e fortemente influenzata un po' dai criteri, un po' dalla confusione di fine ottocenzo, inizio novecento. In particolare da un certo archivista bolognese che si chiamava Formioni, che attribuì i registri per gamenacei alla classe quinta, che era il comune nelle sue, diciamo, categorie, e invece delle altre provisioni, quelle che formano la quarta serie, che in realtà è legata a una singola esperienza istituzionale, quella del cosiddetto regime del popolo e delle arti di fine trecento, le provisioni in capreto, ad altre signorie. Insomma, molto, molto confuso, nonostante si tratti di un fondo ben conosciuto, oggi ben inventariato, un fondo che ancora sconta, per così dire, i pregiudizi e gli anacronismi di fine ottocento. La più grande forzatura, il più grande, diciamo, elemento che ancora oggi inganna, per certi versi, chi va in archivio a cercare riformagioni, nonostante una letteratura piuttosto sviluppata, è la distinzione implicita che c'è tra un consiglio identificato come maggiore, che è questo consiglio del popolo e della massa, e una serie di consigli minori. Mi scuso per l'errore tipografico, qua c'è scritto minori, ma voleva dire minori. Si tratta di una forzatura grave perché parlare del consiglio del popolo e della massa come fanno anche negli inventari della massima autorità legislativa del comune è un po' di per sé un anacronismo, ma anche perché questo consiglio del popolo e della massa, che effettivamente come in tanti altri comuni si affianca al comune, prima in alcuni momenti, a partire già dagli anni venti, poi diciamo in modo più sistematico a metà del secolo e poi, come dire, egemonizzando il comune nella fase più matura e documentata, che è l'ultimo quarto del 200, in particolare dagli anni mie 280, ho osservato che il grande consiglio del popolo e della massa, questo consiglio a cui accedono i membri delle società delle arti e delle armi di Bologna, è l'organismo più largo, ma anche quello diciamo di importanza relativamente minore all'interno delle strutture del popolo, perché accanto adesso esiste un collegio molto importante, il collegio degli anziani e dei consoli, che dal punto di vista diciamo numerico è formato da molte meno persone, che affianca il consiglio del popolo fino dagli anni 1240 e che però costituisce qualcosa di molto simile a un governo del comune, qualcosa di simile a quello che sono, per dirlo in modo, come dire, comparativo, i priori di Firenze, perché può convocare il consiglio del popolo della massa, gli anziani e i consoli possono convocare il consiglio del popolo della massa, possono presentare delle proposte a questo consiglio e quindi stabilirne l'ordine del giorno anche in assenza del capitano e infine, perché come vedremo anche tra un momento, possono prendere delle decisioni gli anziani e i consoli, soli o insieme ad altri sapienti, convocati, membri di balie, eccetera, che riguardano singoli aspetti, regolamenti e di questo penso che parlerà anche Roberta Mucciarelli in seguito, appunto, che presenta la forma talvolta dei decreti, ossia dell'ordinamento. Per tutte queste ragioni, chiamare questa magistratura un consiglio minore è fortemente, come dire, ingannevole e metterla insieme nell'ordinamento archivistico ad altri consigli, che sono per esempio quello del comune e non del popolo, rende tutto molto, molto più complicato. Non voglio, come dire, attardarmi su questo ordinamento complesso e ingannevole, se non per dire che la terza forma, diciamo la terza serie, questa delle riformagioni e provisioni cartacee, a sua volta poi è distinta in tre sottoserie cronologiche, che fanno riferimento al consiglio, questo era una slide su quello che dicevo prima, il fatto che non si tratta dei consigli minori, quelli degli anziani consoli, per quanto riguarda la serie cartacee è distinta in queste sottoserie cronologiche e che fanno riferimento a varie esperienze di governo trecentesche, l'ho voluto mettere perché in qualche misura copre lo stesso periodo delle celebrate riformazioni del senato misti di Venezia e che forse in qualche caso ci possono essere come dire dei dati in cui è scritta. Un elemento questo, cartaceo versus per così dire pergaminaceo, che senz'altro è importante, ci torneremo, ma che difficilmente può esaurire i criteri di una sistemazione archivistica. Dunque, in qualche modo, come dicevo poco prima, in un archivio che è esemplare spesso per rispetto del metodo storico, il fondo comune governo, cioè quello, come dire, il fondo principale per lo studio del comune e il fondo riformagioni e provvigioni del comune rappresentano più l'eccezione che la regola e sono particolarmente problematiche dal punto di vista archivistico. Una volta chiarito questo, proviamo a capire come effettivamente le delibere venivano scritte in questa fase della fine del 200, cioè nella prima fase veramente documentata. Abbiamo delle tracce precedenti, abbiamo dei momenti, degli singoli anni documentati nel corso del XIII secolo, ma diciamo le serie cominciano proprio dagli anni 80 e non è un caso perché proprio nel 1288 avviene una grande riforma istituzionale nel comune di Bologna, testimoniata dalla compilazione di una doppia serie di statuti del comune e del popolo, di cui sopravvivono quelli del popolo, che sono una compilazione nota e studiata, edita da Gina Fasoli e Pietro Sella già negli anni 30 del novecento e che restituisce l'immagine di un regime di popolo maturo e in qualche misura quasi radicale, nel senso che le strutture del comune e del popolo sono di fatto due strutture quasi perfettamente parallele, ognuna con i suoi consigli, ognuna maggiori e minori e con però un governo, quello degli anziani e i consoli, emanazione del popolo che comincia a essere dotato di una forte autonomia. Nel parallelismo di queste due strutture del comune e del popolo c'è il parallelismo dei magistrati forestieri che le presiedono e dunque podestà da una parte e capitano del popolo, che hanno a loro volta alle loro famiglie e i loro notai. Ed è proprio dalla distinzione tra i notai di questi magistrati e i notai cittadini che vorrei partire per cominciare a segnalare cosa cambia nel periodo precedente e in quello successivo a questa grande riforma statutaria del 1288. Cominciamo dal lato del comune. Ecco, dal lato del comune, per quanto riguarda i consigli del comune, le delibere sono redatte da un notaio cittadino, secondo questi statuti, mentre per il popolo anche le delibere in un primo momento sono redatte da un altro notaio cittadino. Quello che redige la prima fase di registrazione delle delibere per il comune è il notaio delle riformagioni, quello che redige le delibere dei consigli del popolo è il notaio degli anziani e dei consoli. Entrambi sono cittadini bolognesi ed entrambi si occupano sempre almeno del primo momento della registrazione. Come attestano gli statuti del 1288, per esempio il primo di questi due notai, quello delle riformagioni, secondo questi statuti, ogni giorno di mattina, singulis diebus in mane, deve recarsi nei luoghi dove si riuniscono i vari consigli del comune, ovvero nel palazzo del podestà, deve prendere posto in una precisa posizione della sala, si dice dal lato opposto al podestà che sta sulla ringhiera e si specifica che nel caso ci sia un consiglio in seduta congiunta con molte persone questo notaio deve avere un suo tavolo, un suo desco e deve verbalizzare su un quaderno in ordine, cioè per seriem, tutto quello che viene detto, le proposte, le proposiziones, le parole di ciascuna persona che interviene, il dictum seu sententian cuius libet conscionantis, seu consulentis, il tenore della delibera che viene presa, ovviamente come sempre in questi casi senza aggiungere o togliere nulla, segnalare nel caso delle delibere votate a scrutinio segreto, ovvero sia con le biglie e le pissidi, le cifre dei voti e poi viene detto sollecitare le varie autorità che presiedono ai consigli che hanno emanato queste riformagioni a mandarle ad effectum, cioè a portarle negli altri consigli in cui dovranno seguire l'iter per l'approvazione. Una volta scaduto dal suo ufficio, questo notaio, che è appunto il notaio alle riformagioni, deve, e questo è un punto molto interessante per noi, versare alla Camera degli Atti tutto ciò che ha scritto in versione autentica, scusate ho un ritorno, forse qualcuno deve togliere il microfono perché... ecco... tutto ciò che ha scritto in versione autentica è pubblicata in Cartis Pecorinis vel iis similibus, c'è questa espressione interessante degli statuti che dice che dunque una volta scritto sui suoi quaderni, probabilmente cartacei, quello che è successo nel Consiglio, il notaio delle riformagioni deve ricopiare in quaderni o di carta, di pergamena, oppure simili, cioè quaderni magari non di pergamena ma che sono più solenni, e versare il tutto all'archivio comunale che è la Camera Actorum. La stessa cosa più o meno avviene sul fronte e testimoniano gli stessi statuti delle magistrature del popolo con poche differenze. Il notaio degli anziani, quello che è deputato alla prima parte della registrazione delle riformagioni dei consigli del popolo, deve fare, si dice, le stesse cose del notaio delle riformagioni ma nei consigli di anziani e nel consiglio del popolo senza intromettersi negli altri consigli e la grande differenza è che a differenza del notaio alle riformagioni, questo notaio degli anziani, diciamo questo notaio dei consigli del popolo, chiamiamolo così per capirci, non deve deporre le riformagioni che ha, come dire, steso in una forma più definitiva nella Camera degli Atti perché di questo si occupa, si dice, il notaio del capitano del popolo. In entrambi i casi dunque abbiamo un triplice livello di redazione, un primo livello che è certamente su carta, anzi a partire da quaterni cartacei sciolti da fascicoli, che comprende gli interventi, che comprende tutti gli elementi che vengono pronunciati, tutte le parole che vengono pronunciate nel consiglio, che porta poi alla redazione di, come dire, verbali. Un secondo livello che potrebbe essere su carta ma anche su pergamena, quindi in cartis pecorinis ves il similibus, che contiene le sole delibere, senza discussioni, sempre però di solito scritto da parte dei notai cittadini. Un terzo livello, invece stavolta sempre su pergamena, con le copie delle riformagioni fatte da parte dei funzionari forestieri. Ma questi tre livelli, per così dire, interagiscono in modo diverso prima e dopo l'88 a seconda che si tratti del comune e del popolo. Prendiamo per esempio i consigli del comune. Cosa cambia tra prima e dopo questo grande momento di riforma? In questo ci aiuta il terzo tipo di fonte che citavo all'inizio, ovvero quelle liste di antichi registri che costituiscono gli inventari dell'archivio bolognese. Per il lato comunale non possediamo infatti regole negli statuti che definiscono quale siano le modalità di archiviazione, ma possiamo desumere queste regole proprio dagli antichi inventari. Infatti abbiamo i tre livelli di di cui vi parlavo prima, che cambiano nella loro parte finale, nel terzo dei livelli, perché prima del 1288, per i consigli del comune, è il notaio del podestà che ricopia i registri di delibere definitive e li deposita nella camera actorum. Questo è un elemento che possiamo ricavare soltanto dagli antichi inventari, dove troviamo prima di quest'anno delle tracce di questi registri copiati dal podestà, dopo invece succede che è lo stesso notaio alle riformagioni che versa le sue copie alla camera actorum, come dire, saltando ormai la fase del notaio del podestà. Questo fa sì che, visto che possediamo soprattutto i registri conservati dalla camera actorum e soltanto gli antichi inventari della camera actorum, negli anni precedenti al 1288 noi non abbiamo non soltanto i quaterni dei consigli del comune, ma nemmeno i registri del secondo livello che questi notai alle riformagioni ricavavano da queste minute. Per questi anni sono conservati soltanto i registri del terzo livello, quelli per gamenacei, che i notai del podestà copiavano fedelmente dai registri dei notai alle riformagioni e che poi, in quanto documentazione podestarile e quindi ovviamente di magistrati sottoposti al sindacato e quindi i registri controllabili finivano per essere consegnati alla camera actorum. Un tipo di questi registri, per esempio, diciamo, reca proprio nella sua intitolazione tutte le tracce di questi passaggi. Si dice che si tratta di un libera reformazione, un consigliorum octigentorum et populi bononium factarum, queste riformazioni di questo Consiglio degli Ottocento, al tempo del nobile podestà Corrado di Montemagno e scritto proprio dalla mano del notaio di questo podestà, che si chiamava Gislerius, ma esemplato e quindi ricopiato da un libro autentico, ecco qua il fatto dell'autentificazione a cui faceva del registro e non dei singoli atti, ex libro autentico, scriptomano Ugolini, Domini e Androxi, che allora era appunto il notaio alle riformagioni dei consigli del Comune di Bologna. Questa è la situazione fino a tutto l'88 che è normato dagli statuti, poi dopo le cose cambiano e troviamo sia negli inventari antichi ma anche proprio nelle serie archivistiche i registri di riformagione dei consigli del Comune scritti dai notai delle riformagioni. Si salta, come dicevo prima, il passaggio del notario del podestà. Prima dell'88 era il notario del podestà a versare la versione definitiva delle riformagioni nell'archivio della Camera Actorum, dopo sono invece i notai delle riformagioni. Si tratta forse di un segno di aumento di importanza di questi notai cittadini. Proviamo a vedere cosa succede dal lato dei consigli del popolo, quindi dall'altro lato dell'altro elemento che forma questa struttura bifida e parallela di comune e popolo a Bologna. Qua possediamo varie tipologie di registri. Abbiamo dei registri addirittura mensili, quanti, cioè quanto si avvicina molto a quei quaterni, che ne abbiamo pochissimi ma sono interessanti, quei quaterni di appunti o minutari insomma presi dai notai, stavolta i notai degli anziani, nei consigli del popolo. Ne abbiamo per esempio uno del 1282 che è proprio un quaterno mensile, il mese di maggio 1282. Abbiamo dei registri semestrali, quindi dei registri che sono composti, di solito ricopiati dai vari registri mensili e che vanno a formare per così dire lo spazio del semestre in cui si svolge normalmente il mandato podestarile, anche essi scritti dal notaio degli anziani. Se volete poi vi posso dare i dati sulla dove trovarli, dove trovare le loro intitolazioni e che ci fanno capire che questi notai, questi registri semestrali, prima del 1288 vanno a finire loro stessi alla Camera Actorum e quindi in pratica che succede? Non passano per il controllo del magistrato forestiero, il capitano del popolo che invece prima del 88 è molto attivo e molto presente, ma non ha questo compito e questa responsabilità che invece assume dopo l'88 in seguito agli statuti per cui diventa lui il garante finale della redazione delle riformagioni. Dopo l'88 infatti si dice che nella Camera Actorum devono finire le copie fatte dal notaio del capitano e tutto questo viene confermato in alcuni casi dai registri che abbiamo e anche in modo più sistematico dagli antichi inventari. Con però una complicazione di questa struttura in qualche misura parallela e alternata per cui sembrerebbe che i magistrati forestieri e i loro notai cedono potere per i deboli, più deboli, sempre meno potenti consigli dei comunali ai notai cittadini e lo acquisiscono invece i forestieri per quanto riguarda i sempre più forti e potenti consigli del popolo. La cosa, il problema, la complicazione di questa struttura evolutiva abbastanza classica che corrisponde a un'idea di sviluppo del regime di popolo abbastanza condivisa è che in realtà non tanto nella Camera Actorum e negli inventari di questa Camera Actorum ma nell'archivio attuale sparsi un po' casualmente in modo di cui è difficile ricostruire la provenienza abbiamo invece dei registri che sono sopravvissuti dei due livelli precedenti di registrazione, ovvero sì abbiamo dei registri pochissimi ancora una volta con il dibattito e soprattutto dei registri fatti dal notaio alle riformagioni e non anche dopo l'88 e non da quello del Capitano del Popolo. Cosa significa questa cosa? Significa qualcosa di molto interessante, significa che oltre all'archivio della Camera Actorum le deliberazioni venivano conservate in altri archivi e che fino a noi sono arrivati da questi altri archivi, in particolare sicuramente da un archivio del notaio agli anziani ai consoli che aveva come alcuni uffici un suo archivio e forse anche da un archivio delle riformagioni che sarebbe una cosa interessante ma va approfondita anche per stabilire un parallelo con Firenze. Vengo alle conclusioni che sono tre molto rapide. Mi pare che questa vicenda, questa rilettura puntuale e ovviamente molto sintetica delle modalità di registrazione e di archiviazione delle prime riformagioni documentate bolognesi ci fa capire alcune cose. La prima lo dico in modo molto libero proprio perché mi sembra che la discussione, anche avendo sentito gli interventi precedenti, è da fare, che il problema da cui sono partito, la mancata corrispondenza tra delle serie archivistiche e un ufficio, nasconde un problema ancora più grande, cioè il fatto che il consiglio nell'epoca comunale che ci interessa qui non è un ufficio ma qualcosa di diverso. I consigli non sono dei parlamenti diciamo alla moderna per il quale tutte le norme devono passare ma specialmente a Bologna sono delle camere di legittimazione formalizzata di decisioni prese spesso altrove, soprattutto da parte degli anziani e delle loro balie e commissioni così bene studiate proprio per Bologna ma anche altrove da Sara Menzinger. Per questo dal punto di vista archivistico non è bene immaginare una serie del consiglio del popolo ma una serie di minutari del notaio degli anziani o del notaio alle riformagioni o una serie delle riformagioni dei per esempio notai del capitano e accanto a queste serie come dire principali, repertori, memoriali, registri che a Bologna sono molto presenti e su cui oggi non mi sono per niente intrattenuto, che servono esattamente a trovare riformagioni, provvigioni, delibere emanate su specifici argomenti che possono servire nel concreto esercizio o della giustizia o di altre attività per esempio la fiscalità. Secondo punto, i registri di delibere che abbiamo nella stragrande maggioranza dei casi a Bologna non sono dei verbali di consiglio ma sistemi per pubblicizzare e ufficializzare. In questo collego a quello che diceva Lorenzo Tanzini. Scusate se vi chiedo ancora di chiudere il microfono perché sento solo me stesso. Grazie. Dicevo i registri di delibere non sono davvero verbali di consigli ma sistemi per pubblicizzare e ufficializzare l'esito delle decisioni. I notai sono responsabili di questa ufficializzazione ma non ancora direi, qua tocco un punto molto delicato ma su cui mi piacerebbe parlare un po' con Attilio Bartoli Lange, in quanto come dire cancellieri o compiutamente funzionari pubblici. Persino a fine 200 abbiamo ancora un elemento diciamo non dico incerto ma un'oscillazione tra gli statuti dei notai che che verbalizzano e da questa incertezza di statuto deriva anche l'oscillazione della scelta tra notai cittadini e forestieri. Ho insistito molto sui cambiamenti che portano a dare ai notai forestieri come dire in particolare per il Consiglio del Popolo l'ultima parola sulla scrittura delle riformagioni ma in realtà l'oscillazione tra notai cittadini e forestieri continua anche dopo anche nel 300. Non si risolve in un senso o nell'altro. Resta come dire il piano di un doppio controllo da parte di due notai che rispondono a due logiche diverse. Una è quella come dire cittadina dell'avere l'archivio di tutto quello che succede. Se vogliamo un po' quell'esigenza che Lorenzo Tanzini diceva all'inizio sul rendere conto di ciò che è avvenuto in consiglio l'altra è l'esigenza dei forestieri come dire di proteggersi dal sindacato e di permettere il controllo che tutto è avvenuto secondo le procedure. Dunque doppio controllo e infine ed è veramente l'ultimo punto eh questo doppio controllo è anche archivistico. Eh per Bologna noi abbiamo la fortuna di possedere come dire non solo eh tanta parte dell'archivio comunale la camera actorum eh diviso nei due armaria del popolo e del comune perché anche qui eh abbiamo una doppia struttura. Abbiamo anche gli inventari di questa camera actorum ecco ma le riformagioni cioè uno dei fondi più conosciuti se osservate da vicino anche per un breve periodo e comparate a questi antichi inventari ci fanno capire che questa archivio della camera actorum non era l'unico archivio ce ne erano altri eh e che eh diciamo eh 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 per quanto questo fosse questo l'archivio finale definitivo eh un'indagine su questi altri archivi condotta a questo punto attraverso strumenti che oggi proprio grazie a tutte queste conoscenze possiamo padroneggiare meglio le segnature dei registri eccetera potrebbe schiuderci varie possibilità di indagine. Grazie. Grazie a Giuliano Milani.